Perdere un derby dispiace a tutti, ancora ci rode un po' per la sconfitta, però stiamo pensando alla partita di Fano, non dobbiamo avere rimpianti e dobbiamo cercare subito il riscatto domenica prossima con il Fano. Le sorti della nostra classifica ce le costruiamo giornata dopo giornata, dicembre è un mese importante, comunque abbiamo tre partite importanti e dobbiamo cercare comunque di fare i più punti possibili. Queste ultime tre partite purtroppo non ci è andata tanto bene, però la fortuna comunque ce la dobbiamo andare noi a cercare e cercare di portare qualche punto in più sicuramente in casa nostra davanti ai nostri tifosi. No, sinceramente non ci siamo fatti nessun calcolo, uno spogliatoio, noi pensiamo sempre partita dopo partita di riportare qualcosa a casa, noi comunque giochiamo sempre per portare una vittoria. Quest'ultimo periodo come ho detto non ci sta girando bene, speriamo di portare un bottino pieno con domenica prossima con il Fano. Noi all'inizio, il nostro obiettivo principale è la salvezza e noi partita dopo partita dobbiamo costruirci questo percorso cercando di fare più punti possibili sia in casa o fuori e portando sempre qualche punto a casa. Io conoscendo mi posso dare molto di più rispetto a quello che sto dando ultimamente, ma penso come tutti quanti, comunque si sono abbastanza soddisfatti come sto facendo, però devo dare sempre qualcosa in più. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.